Susanna Ceccardi ha vinto Sì, Susanna Ceccardi ha vinto Questo è il terzo video che io dedico a Susanna Ceccardi Bella, brava e buona La Toscana, la Toscana Voi dite, ma come Susanna Ceccardi ha vinto? Voi potreste dirmi, ma Susanna Ceccardi non ha vinto In Toscana ha vinto il centrosinistra Non ha vinto il centrodestra Susanna Ceccardi è di centrodestra Beh, ma io sono Serafino Massoni E io ce l'ho la risposta Susanna Ceccardi non ha vinto Formalmente, non ha vinto De Jure Ma ha vinto sostanzialmente Ha vinto nella sostanza Non nella forma Ma che storia è mai questa? Susanna Ceccardi ha vinto? Sì, sì, ha vinto Susanna Ceccardi E ha vinto proprio perché non è diventata governatrice della Toscana O nei due video precedenti che ho dedicato a Susanna Ceccardi Io le cose le ho spiegate per bene Perché io sono Serafino Massoni e le cose le spiego sempre per bene E io ho detto che se Susanna Ceccardi vinceva Avrebbe visto i sorci verdi Non solo perché la Toscana è una Toscana Perché in qualsiasi altra regione Fare il governatore o fare la governatrice vuol dire assumersi di responsabilità Le responsabilità pesano e sono degli oneri Sono degli oneri tremendi le responsabilità del governo Perché le popolazioni non sono mai contenti Non sono mai contente le popolazioni E poi ci sono le opposizioni che ti criticano La governatrice de facto della Toscana è Susanna Ceccardi Perché adesso lei potrà criticare liberamente Avrà la stessa paga Ha una bella paga quella del consigliere regionale Andate a informarvi come sono pagati bene i consiglieri regionali Con la differenza che i consiglieri regionali di maggioranza Si prendono le critiche E invece i consiglieri regionali di opposizione Le fanno le critiche E mettono i giudizi Formulano i giudizi Nei confronti della maggioranza Ha vinto la pace Ha vinto la tranquillità Se le sta in pace Prende la sua bella paga Susanna Ceccardi Prende la sua bella paga Di consigliera regionale Se ne sta alla finestra Giudicare l'operato dei vincitori E questo intende Serafino Massoni Dicendo che Susanna Ceccardi ha vinto Questo è il terzo video Ti dedico Susanna Ceccardi Poi non te ne dedico più Ma chiarisco Chiarisco la mia posizione Ha vinto nel senso che adesso Se ne sta in pace Se ne sta in pace Cioè se ne sta alla finestra A guardarsi lo spettacolo E fa le sue critiche Lei le critiche non le riceverà da nessuno Ma lei di critiche ne farà tanti Perché sono quelli che governano Che ricevono le critiche Tu non sei capace di governare Torna a casa Ti manderemo a casa Ti manderemo a casa Ti manderemo Non sei capace di governare il popolo Ti manderemo a casa Ha vinto E poi avrà anche il tempo Di fare delle buone letture Susanna Ceccardi Con la sua bella paga di consigliera regionale In primis Susanna Ceccardi potrà leggere In tutta tranquillità Questa mia opera storico-mitologica La stipe del serpente Che spiega come stanno le cose In patriarchiato Ok Susanna Ceccardi Il terzo video che ti dedico questo Tu hai vinto Hai vinto Susanna Ceccardi Ora te ne stai tranquilla Alla finestra A giudicare l'operato Del centro-sinistra Che ha vinto in Toscana Uh come sarà bello per te Formulare le critiche Nei confronti del governo Di centro-sinistra Della Tuscania Della Tuscania E poi andartene la sera a letto Bella, tranquilla e felice E a leggerti questa Mia opera storico-mitologica Mi sono chiarito cari amici Mi sono chiarito Casomai non mi fossi chiarito A sufficienza Fatemelo sapere Che cercherò di chiarirmi meglio Va bene? Ok